Trent'anni di coma, un mondo completamente cambiato con un ultimo ricordo che è quello del funerale di Enrico Berlinguer il 13 giugno 1984, una morte che segnò uno spartiacque nella politica italiana. Quando è un romanzo non nostalgico ma immerso nelle contraddizioni di questi anni e rivolto anche al futuro. Lo spiega l'autore Walter Veltroni che giovedì sera insieme al direttore della Nuova Sardegna Antonio Di Rosa ha presentato il libro nello spazio di fronte alla Basilica di Saccargia nell'ambito del festival Entula. Giovanni, il protagonista del romanzo, è un vero compagno, un uomo con idee forti e ferme. E' come nel film Goodbye Lenin, si risveglia in un mondo che è completamente trasformato e dove il comunismo non esiste più, non c'è più il PC. E gli amici, ora non più giovani, gli raccontano che nel frattempo Berlusconi ha preso il potere, il muro di Berlino è stato abbattuto e le Twin Towers di New York sono crollate. Giovanni non ritrova più se stesso e al contempo vive situazioni che strapano più di un sorriso come la scoperta dei cellulari. Un altro grande cambiamento è quello del lavoro, non c'è più il mito del posto fisso per tutta la vita. In quella società si parlava, si leggeva. Oggi invece il linguaggio dei social non è quello del confronto civile ma dell'insulto. Ho la paura adesso diventata in politica quasi un'industria, ha detto Veltroni. Un libro ironico, divertente ma anche amaro. Walter Veltroni, politico e scrittore, che ricorda come eravamo e come siamo diventati. La sinistra non deve imitare gli altri perché l'originale e più convincente della coppia deve essere se stessa e portare i suoi valori. A sinistra non manca la domanda, manca l'offerta.